Allora, cercherò di essere il più breve possibile. Il pensiero a caldo è che quando abbiamo dei giocatori che si sentono già arrivati, in campo abbiamo veramente pochissimi fuoriclasse, ma veramente pochissimi, forse l'unico fuoriclasse in campo è il portiere e Giroud, e ci sono dei giocatori che sono palesemente, si sentono dei fenomeni che non sono, perché non è possibile, tu oggi potevi non avere motivazioni per andare a vincere, cioè oggi bisognava fare tre punti, fine, senza se e senza ma giocare male, giocare bene, devi fare tre punti, fine della storia, ok? Fine della storia, non c'erano altre questioni, invece no, tu vai a pareggiare con la sernitana che mette il bus giustamente davanti alla porta e sei andato a casa contenta con un punto fatto, hai capito? Perché tu non hai avuto la decenza di spingere il cazzo di secondo tempo, il cazzo, reputo il cazzo di secondo tempo, e anche questa volta abbiamo fatto l'1-0, allora cosa facciamo? Pensiamo già alla partita dopo, cioè manca ancora 40 minuti e noi pensiamo già alla partita dopo contro l'Udinese. Prendiamo il giallo, giochiamo di strategia, facciamo già i cambi, ma io non riesco a capire, porca puttana, la partita dura 90 minuti e si dà tutto per 90 minuti, cazzo, non è possibile una roba del genere, occasioni buttate via, oh, con la roba che ha perso, l'Inter ha perso, la Lazio ha pareggiato, la possibilità di andare secondi, essere più sicuri in questa cazzo di volata Champions, che volata, si va a passo di lumaca, si va qua, mamma mia, io non riesco a capire, magari diamo troppo in Europa e in campionato facciamo gare, ma non è possibile, oggi bisognerà fare tre punti, ci sono dei giocatori che si sentono già arrivati, anche facciamo l'1-0 e dicono, ma sì, noi siamo forti, abbiamo già fatto il mio, no, si fa l'1-0, se ne fa il secondo, si fa il terzo, porca vacca, e ci tireremo avanti sta cazzo di volata Champions fino all'ultima giornata, perché tanto saranno tutte così le giornate, tutte così, mai una partita tranquilli, mai, non si può mai fare una partita tranquilla, questa spingevi, andavi sul 2-0, facevi anche il terzo, ma no, niente, dovevamo pensare all'Udinese noi, vero? invece di chiudere questa qua, ma io non ho parole, non ho parole, stavamo ricominciato a fare punti e ne abbiamo fatti uno in due partite, benissimo, andiamo avanti così e sì, sì, bella la Champions, non so se ci andiamo l'anno prossimo, questa mentalità qua, proprio no, proprio no. Orighi, ritirati dal calcio, ci hanno dato un sosia, quello lì non è il vero Orighi.